Valéry, serata quindi di poesia, di letteratura, di cultura francese su Paul Valéry. Ecco, riguardo a Paul Valéry abbiamo utilizzato sia alcune riflessioni del professor Carlo Zacco, un nostro grande amico, tanti tanti anni fa tirocinante del sottoscritto, cioè aveva scelto me come tutor, come mentore per l'insegnamento e adesso un affermato professore di lettere al liceo Cesare Beccaria di Milano. Però ho anche attinto ad un lavoro in rete di Joachim Agu, probabilmente un francese. E così vediamo un po', dichiarirci le idee su Paul Valéry. Il suo nome tra l'altro è piuttosto lungo, il vero nome sarebbe Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry. È nato il 30 ottobre del 1871, set, spero di pronunciare bene, purtroppo, ahimè, non ho mai studiato a scuola il francese, ho studiato a scuola l'inglese, per un po' anche un pochino di tedesco, ma il francese no, quindi mi scuso per le imprecisioni di pronuncia. Insomma, una cittadina sul mare ed è morto il 20 luglio del 1945 a Parigi, quindi è morto poco dopo la liberazione dall'occupazione, diciamo, intendo dire poco dopo la fine della seconda guerra mondiale in Europa. Ecco, torniamo indietro sulla slide precedente, ed è stato un eclettico, un intellettuale a 360 gradi. Noi lo ricordiamo e anche oggi, insomma, leggeremo una sua poesia, lo ricordiamo come poeta, ma in realtà è stato anche saggista, critico e filosofo. Infatti ha prodotto poesia, vedremo neanche così tanta poesia. Narrativa saggistica tanta, invece. Arte, per esempio uno studio su Leonardo da Vinci. Storia, lettere, quindi epistolario, ne parleremo di questo epistolario. Sulla musica, articoli, dialoghi, aforismi e riflessioni. Le riflessioni sono i cahiers, i quaderni di cui parleremo fra poco. Gli aforismi sono queste frasi, insomma, proverbiali, come questa, che io trovo molto, molto intelligente e interessante. Quando non si può attaccare il ragionamento, si attacca il ragionatore. Quindi è uno spirito libero, Paul Valéry, che sottolineava, insomma, l'indipendenza del pensiero, la libertà di pensiero, e le idee più ardite, rivoluzionarie e innovative, che scuotono le coscienze di chi invece si adagia sul già detto e già saputo. La sua famiglia di origine, insomma, il padre viene dalla Corsica, è un corso, e la madre è genovese. E quindi siamo, poi, dicevamo, in questa zona, non dico a confine con l'Italia, ma sicuramente c'è qualche elemento di collegamento fra Paul Valéry e l'Italia, soprattutto per via della madre genovese. È cresciuto a Montpellier, ha avuto un'educazione cattolica romana tradizionale, perché ha frequentato le scuole dei Domenicani. Poi ha studiato diritto all'università. Nel 1889 si sarà anche... no, si sarà iscritto, penso, a questa facoltà di giurisprudenza. Poi si è trasferito a Parigi nel 1894. Poi ha sposato, nel 1900, Jeannie Gobillard, nipote della pittrice impressionista Berthe Morisot. E poi è diventato uno scrittore a tempo pieno solo nel 1920. È stato eletto all'Accadémie Francaise. Ecco, l'Accadémie Francaise, un po' come l'Accademia dei Lincei, qui in Italia, è la... o l'Accademia della Crusca, per quanto riguarda la lingua italiana. È una delle accademie più riconosciute, più affermate, più importanti in Francia, che ha un numero ristretto di membri, che vengono scelti in modo molto oculato. E quindi è chiaro che ormai, a quell'epoca, spiegheremo anche perché, Paul Valéry era un poeta affermato, e quindi per questo motivo diventa un membro dell'Accadémie Francaise. Siamo negli anni del primo dopoguerra. Sono anni molto tormentati. Lui si presenta in quegli anni come un uomo di cultura, un opinionista, chiamiamolo così, un intellettuale molto apprezzato. Proprio in quegli anni, infatti, ha fondato anche il Collegio Internazionale de Cannes, un istituto privato di insegnamento della lingua e della civiltà francese. È diventato membro dell'Accademia delle Scienze di Lisbona, a testimonianza di come fosse riconosciuto in tutta Europa, come un intellettuale, una mente, insomma, lucida. Fu nominato amministratore delegato dell'Università di Nizza. Ecco, gli era capitato di ascoltare una conferenza di Albert Einstein, che oltre a parlare, insomma, di fisica o di altre materie, insomma, non molto semplici, anche se lui, comunque, Paul Valéry era affascinato da tutto, e era affascinato anche dalla matematica e dalla scienza. In quella conferenza parlò chiaramente di come già l'Europa era stata tormentata da una guerra e sarebbe stato assurdo ricadere nello stesso errore, cioè far scoppiare una nuova guerra mondiale. Bene, questo immediatamente colpì Paul Valéry, che iniziò un'amicizia con Albert Einstein, come dimostra la corrispondenza epistolare con lui, proprio, soprattutto, su questo tema del pacifismo. Erano in pochi, allora, a crederci al pacifismo, perché sotto sotto l'Europa si stava preparando ad una nuova guerra, sorda agli appelli di questi spiriti più illuminati. Bene, nel 1940, come ben sappiamo, i tedeschi nazisti hanno occupato Parigi e hanno relegato la Repubblica Francese, diciamo, nella parte meridionale della Francia, appunto la cosiddetta lo Stato di Vichy, o Repubblica di Vichy, che era collaborazionista con l'occupante tedesco. E' chiaro che questo Stato aveva chiesto a Paul Valéry, in quanto personaggio molto influente, di collaborare con il governo. E lui si è rifiutato categoricamente, perché, l'abbiamo già spiegato, era pacifista e sicuramente antinazista e antifascista. Ebbe ben dodici volte la nomination a Nobel della letteratura, per la letteratura, ma non lo conseguì mai, a differenza, diciamo così, per esempio, vedremo la prossima volta, stiamo leggendo un libro di Camus, La peste di Camus, che lo ottenne qualche anno dopo, intorno al 54, e abbiamo già visto Sartre, che lo ebbe, insomma, negli anni 60. Valéry morì a Parigi nel 1945. Un altro aforisma, per esempio, di Paul Valéry è il seguente. La politica è l'arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda. Quindi era molto critico, insomma, col potere, e l'abbiamo visto in particolar modo riguardo allo Stato di Divichy. Abbiamo detto che una delle sue opere più imponenti, perché sono stati ritrovati 25.000 manoscritti di appunti, di, appunto, Cahier, quindi un tacquino, dei quaderni, no? Su cui lui si appuntava di tutto, appunto alcuni aforismi, cioè queste frasi sentenziose, e ne abbiamo già lette due, e poi tantissime riflessioni a tutto tondo e su di tutto. Abbiamo detto, non so, l'arte, la musica. E' un'impresa sorprendente e mastodontica, ancora più dello Zibaldone di Leopardi. Più o meno possiamo immaginare i quaderni di Valéry come un testo del genere, quindi una miscellanea, ecco, di riflessioni su diversi aspetti, anche sulla poetica, sulla letteratura comunque, ma anche addirittura sulla scienza e la matematica, perché abbiamo detto che era curioso e che era interessato a tutto, e era interessato anche la scienza e la matematica. Molto simpatico e ironico in uno dei suoi aforismi, quando dice non sempre io sono del mio parere, a testimoniare ancora una volta il dinamismo del suo pensiero, addirittura qualcuno afferma che sia ancora più importante quasi come filosofo, più che come poeta, Paul Valéry. Dopo ne parleremo. I Cahiers contengono anche, qui vedete per esempio il volume quinto, edito da Adelphi in Italia, quindi volumi su volumi di questi quaderni. I Cahiers contengono anche le prime bozze di molti aforismi da lui poi inclusi nei suoi libri. Un altro aforisma molto ironico. Avendo dedicato queste ore alla vita della mente, mi guadagno così il diritto di essere stupido per il resto della giornata. Ecco, come vedete, molto ironico e simpatico anche in certe sue riflessioni. Ecco, uno dei suoi testi più interessanti a livello di saggistica è il cosiddetto La crisi del pensiero, pubblicato insieme ad altri saggi quasi politici. Ancora un altro aforisma. Noi civiltà del progresso, anche noi sappiamo di essere mortali. E' questo quello che è avvenuto all'Europa dopo il trauma della Prima Guerra Mondiale. Prima del 1914 forse gli europei erano convinti, non dico di essere mortali, ma di vivere in uno stato di costante progresso senza interruzioni. Invece il trauma della Prima Guerra Mondiale ha messo tutti davanti alla finitezza della vita e anche, quasi quasi oserei dire, la decadenza dell'Europa. Con quest'opera del 1919, quindi, scritta e pubblicata un anno dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, Valeri sostiene che dopo la Prima Guerra Mondiale la civiltà europea è in pericolo. Si tratta di una crisi, una crisi profonda, non solo una crisi militare. Abbiamo visto che sin dalla Prima Guerra Mondiale l'Europa perde quella centralità a livello politico-militare a favore, ad esempio, degli Stati Uniti. Crisi economica, e poi dieci anni dopo ce ne sarebbe stata una di quelle crisi economiche veramente epocali, quella di Wall Street, e soprattutto intellettuale, però crisi del pensiero. Il problema, dice Valeri, è questo. Il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta, dice con un altro ironico aforisma. Abbiamo sempre progettato e pensato di avere un futuro quasi immenso, infinito, radioso, volevo dire, davanti, mentre invece adesso ci siamo accorti che forse le cose non stanno così. Eravamo un po' troppo ottimisti. Poi ancora, in questo libro della crisi del pensiero e altri saggi quasi politici, scrive, che la cultura è impotente, la scienza è deglassata. Ecco, lo sappiamo quando abbiamo studiato l'età del decadentismo, l'età a cavallo fra 800 e 900, abbiamo visto persino la crisi delle certezze scientifiche. le credenze e il pensiero europeo sono confusi. Qualsiasi tipo di verità o certezza sulla quale poggiava la vita degli europei prima di questo periodo sta avvenendo meno. sia quelle tradizionali, religiose, con le quali lui era molto critico, ecco, era essenzialmente diciamo un anticlericale o comunque pur avendo avuto ricordate, no? Abbiamo visto quell'educazione presso i domenicani. Ma anche con la scienza, ecco, perché è ormai superata l'euforia del positivismo della metà del secolo precedente. Qual è il futuro della civiltà europea? Si chiede in questo testo Paul Valéry. Quali sono i valori culturali ed etici da preservare? Cosa possiamo fare per domare la crisi? Cosa caratterizza la cultura e la modernità europea? E infine si chiede vale ancora la pena di propagare il pensiero e lo spirito europeo? Esiste ancora un pensiero europeo? Uno spirito europeo? Ecco, è una riflessione sulla crisi a tutto tondo che per esempio Marcello Veneziani recentemente ha ripreso in mano perché l'ha ritenuta illuminante ancora oggi, diciamo un secolo dopo la sua pubblicazione. Questo testo della crisi del pensiero giusto per spiegarvi che Paul Valéry a differenza magari di altri poeti ha operato anche in campi strettamente filosofici. Ecco, l'abbiamo già visto, no? Qualcosa ha detto solo poi sulla politica? L'arte di impedire la gente di impicciarsi di ciò che la riguarda. Un altro aforisma interessante. Se pensi come la maggioranza il tuo pensiero diventa superfluo. Puoi anche fare a meno di pensare. Quello che tu dici è del tutto banale, superfluo, non necessario, perché pensi come la maggioranza. adesso andiamo però ci avviciniamo sempre di più al cuore del nostro intervento che sarà la lettura di una poesia. Per introduci però la lettura della poesia vogliamo dire qualcosa sul pensiero di Paul Valéry riguardo alla letteratura. Ecco, la poetica infatti è la riflessione sulla letteratura. E' quando un autore, uno scrittore cerca di mettere sulla carta di individuare quali sono i principi dello scrivere dello scrivere testi letterari in modo particolare. Valéry dicevamo è stato un intellettuale un filosofo eccetera ma in realtà è meglio conosciuto come poeta anche se non ha pubblicato tante poesie addirittura meno di cento poesie ha pubblicato Valéry abbiamo già visto che al contrario per tutta la vita ha riempito i suoi taccuini privati i caillè i quaderni tradotti in italiano di osservazioni sul processo creativo e sui propri metodi di indagine anche sul processo creativo per esempio su questi caillè scriveva l'entusiasmo non è lo stato d'animo di un artista quindi sicuramente una prospettiva ben diversa rispetto a quella romantica dell'ispirazione del momento no dice che insomma la poesia l'arte in generale non è il frutto di una ispirazione momentanea folgorante ma è il frutto di un lavoro infatti Valéry ha assistito sul fatto che il processo mentale è l'unico importante nella creazione e le poesie sono il sottoprodotto di uno sforzo creativo della mente ecco dobbiamo ricordare però una data importante è la notte del 4 ottobre del 1892 molto giovane a quell'epoca Paul Valéry attraversa una crisi esistenziale quell'anno quindi sperimenta la rivoluzione della mente cioè l'adesione al simbolismo per il tramite del suo mentore Mallarmé abbiamo visto come fosse difettiva la scienza ormai appariva chiaramente questo agli intellettuali di quegli anni cioè della fine dell'ottocento e allora come ben sappiamo noi che abbiamo già studiato tanti poeti simbolisti Baudelaire Verlaine Mallarmé Rimbaud sappiamo che ci sono determinate cose che forse solo la poesia riesce ad esprimere o a conoscere bella questa frase un capo è un uomo che ha bisogno degli altri è una frase vi assicuro molto interessante per me io faccio come lavoro il dirigente scolastico e quotidianamente mi accorgo di questo mi accorgo della importanza di non essere insomma uno che un accentratore del potere ma l'importanza di creare gruppo di creare l'equip insomma che lavora insieme ad esempio con un dirigente scolastico me lo dice l'aveva scritto anche mio amico Franco Lorusso quando oggi ho come dire ho pubblicato questo aforisma di Paul Valeri appunto sul mio gruppo a tutta scuola ecco abbiamo detto che lui si dedica a tanti studi filosofici e scientifici a una concezione razionale della letteratura non una concezione irrazionale comunque però ecco c'è un dinamismo qui potete vedere che Morcelliana ha proprio pubblicato i suoi testi di poetica sulla creazione artistica un dinamismo fra autocontrollo da una parte e irrazionalità dall'altra razionalità e irrazionalità autocontrollo e mancanza di controllo in un certo senso infatti il carattere principale della sua poetica è un contrasto fra il desiderio di lucido raziocinio il controllo razionale eccetera manifestato dall'uso di difficili vinconi metrici è una sensualità trascinante quindi come abbiamo detto il desiderio di autocontrollo da un lato è consapevolezza di un'ineliminabile irrazionalità dall'altro lato ecco tra le varie opere di Paul Valery si staglia se ne stagliano due insomma primo è la Jeune Parc la giovane Parca la Parca è una figura mitologica una divinità che sovrintende al destino dell'uomo che è un poemetto chiamiamolo così ripeto molto brevi queste poesie del 1917 ma forse il suo capolavoro anzi direi pubblicamente è accertato che il capolavoro di Paul Valery sia il poema Charm Charm significa gli incanti altro titolo Charm u poem cioè incanti o poemi poesie poemettine e questa è l'espressione più matura della sua poesia e fanno parte di questo di questo libro di Charm i suoi componimenti più famosi cioè cimitero marino e le pa le pa vuol dire i passi quindi adesso affrontiamo in generale il testo il cimitero marino la sua poesia più famosa forse le cimitero marino oh mamma mia perdonate veramente la mia pronuncia orribile penso in francese qui il poeta medita guardando il cimitero in riva al mare a Seth la città in cui era nato dobbiamo sottolineare un fatto però che la tecnica di Valéry era abbastanza ortodossa prima abbiamo parlato infatti di difficili vincoli metrici insomma i suoi versi sono rimati scanditi in modo convenzionale in modo tradizionale se vogliamo forse anche questo che non gli ha permesso di conseguire il premio Nobel il nostro Paul Valéry è stato un po' come il nostro Mario Luzzi tante volte candidato diciamo al Nobel per la letteratura ma senza mai poi ricevere questo premio però è chiaro che come abbiamo spiegato lui era stato molto molto influenzato da Malarmé Stéphane Malarmé e quindi è vero che c'è questa struttura se vogliamo un po' tradizionale no? però poi c'è appunto tutta la novità della poesia simbolista francese e lo possiamo vedere nel testo che adesso andremo a leggere Lepas Lepas vuol dire i passi le orme si tratta di una specie di omaggio galante all'amata è un madrigale come vedete costituito da quattro quartine a sinistra potete vedere il testo originale francese a destra la nostra parafrasi vi compaiono tutte le parole chiave dell'esperienza simbolista il silenzio l'attesa l'ombra divina l'essere e il non essere si parla di qualcosa di immateriale i passi dell'amata nell'attimo che precede un incontro d'amore di questo attimo il poeta esalta l'attesa il non essere poiché non è ancora arrivata lei non è ancora arrivata la donna e contemporaneamente l'essere perché proprio quei momenti d'attesa sono portatori di una dolcezza infinita intanto avevamo come dire dimenticato di scrivere una lettera ecco dicevamo una dolcezza infinita un desiderio straordinario che arrivi la donna il poeta addirittura vuole prolungare questa attesa perché c'è forse più gioia più emozione e intensità nell'attesa che non nell'arrivo della donna si tratta di pochi istanti che nella coscienza del poeta si dilatano appaiono rallentati come sono lenti i passi dell'amata la figura della donna è sacralizzata idealizzata e allora iniziamo a leggere e a commentare questa poesia cosa che poi chiuderà anche il nostro breve incontro insomma il nostro incontro su Paul Valéry te pas enfant de mon silencio i tuoi passi figli nati piccoli del mio silenzio saint l'antement plassi santamente lentamente posati questi passi verso il letto della mia veglia procedono muti e gelidi i tuoi passi insomma i passi dicevamo nascono dall'attesa nascono dal desiderio sono desiderati e procedono verso il poeta muti forse perché non si sa che cosa nascondano ma è proprio questa attesa che riempie di trepidazione il poeta quando la donna ancora non è arrivata e forse invece immagina appunto questi passi o ascolta anche i passi della donna che sta arrivando persone pure ombre divine persona pura ombra divina però è molto importante questo accostamento di persona e ombra allora questa donna è una persona in carne ed ossa o è un'ombra è una donna o è una dea sacralizzata dal desiderio e dal piacere dell'attesa che sono due ti ha ritenuto come sono dolci i tuoi passi trattenuti ritenuti ritenuti di due 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 che divino vengono a me su sei piedi nudi tutti i doni che io indovino che io profetizzo che io sogno che io desidero per il futuro vengono a me sui tuoi su questi piedi nudi ecco allora stavamo dicendo i passi sono più apprezzati quanto più non arrivano poiché il desiderio loro è maggiore e quindi come dicevamo viene amplificato dal dal fatto che che lei ancora non è arrivata e come vedete c'è molto i passi che trattieni no cioè è quasi come se fosse dilatato nel tempo questa questa esperienza è come se la donna continuasse ad arrivare ma non arrivasse mai no e tutto questo comunque stimola la fantasia dicevamo il desiderio il sogno è la profezia dicevamo je divina io io divino proprio mi piace anche pensare all'etimologia del termine quasi una divinazione no quindi profetizzo no tutti i doni che arrivano a me sui tuoi su questi piedi piedi nudi si de tes lèvres avancés se dalle tue labbra protese tu prepari tu la pesè ti prepari a dare pace all'habitante me pensè all'habitante dei miei pensieri cioè a quella parte di me che abita i miei pensieri la la novitù d'un basier a nutrirlo come un bacio ti prepari tu prepari tu prepari il nutrimento di un baciare il nutrimento di un bacio no ecco ovviamente la novitù il nutrimento sarebbe una specie di complemento oggetto di preparo ne et ne et pa set act tend non affrettare non affrettare assolutamente questo atto tenero non affrettarlo un gesto così tenero quello di dare pace pour la pesée per dare pace per dare pace di fine diciamo no non affrettare questo gesto così tenero no du ser d'être et de n'être pas è dolce come l'essere e il non essere car j'ai vécu de vous attendre poiché io sono vissuto nella vostra attesa nell'attesa di voi nell'attesa di te qui dobbiamo dire probabilmente che in francese una specie di pluralia maiestatis si può utilizzare la seconda persona plurale al posto della seconda persona singolare è evidente che questo passaggio è avvenuto proprio per quel processo dicevamo di sacralizzazione di idealizzazione della donna che diventa quindi talmente autorevole da non poter neanche più usare la seconda persona singolare più confidenziale amichevole e invece da essere portati a utilizzare la seconda persona plurale et mon coeur ne tè che vopà e il mio cuore non è nient'altro che vopà cioè i vostri passi che noi abbiamo parafrasato i tuoi passi per lo stesso discorso del vu attendre del verso precedente cioè perché c'è una sorta di pluralia maiestatis ma è evidente che noi abbiamo iniziato con i tuoi passi giusto la poesia inizia con i tuoi passi te pa e finisce con i vostri passi quindi si è compiuta dicevamo questa idealizzazione però è anche ciclica perché sono quelli il centro il nucleo della ispirazione poetica insomma ritornando adesso alla terza e alla quarta quartina di questo madrigale le labbra protese offrono il nutrimento di un bacio che può finalmente dare quiete pace sollievo all'ospite dei miei sogni l'abitante dei miei pensieri abbiamo visto proprio letteralmente ovviamente si tratta del poeta stesso che però viene definito così abbiamo anche parafrasato quella parte di me che abita i pensieri il materiale anch'esso esiste il poeta poiché desidera la soddisfazione si fa apprezzare tanto più si rende desiderabile e non a portata di mano non a frettarlo un atto così tenero questo atto tenero non a frettarlo non c'è da aver fretta anzi abbiamo visto che proprio il procrastinare insomma vuol dire ritardare questo arrivo questa dolcezza la rende ancora più desiderabile proprio perché non è a portata di mano essere e insieme non essere detra e denetra pas una dolcezza quindi che qui abbiamo parafrasato come l'essere letteralmente sarebbe la dolcezza dell'essere e del non essere la dolcezza insomma non sta soltanto nella soddisfazione ma anche nell'attesa di questa non sta soltanto nell'essere dell'appagamento ma anche nel non essere dell'attesa è l'attesa dell'amata infatti che conta nulla di concreto viene nominato è tutto sempre solo all'uso in maniera dicevamo simbolica perché io sono vissuto in questa attesa di te di voi voi quindi grande cioè la grandezza dicevamo della donna e il mio cuore non erano nient'altro che i vostri passi devo ovviamente come ho già fatto prima scusarmi per la pronuncia probabilmente non perfetta del mio francese